Di Vaio, per il Bologna cambia qualcosa affrontare partita come questa in una posizione di classifica? Non dico tranquilla, però comunque al di sopra forse delle aspettative inizio stagione? No, quando veniamo a Torino a giocare contro la Juventus le partite sono sempre le stesse. Sappiamo che sarà una partita di sofferenza e noi purtroppo non abbiamo fatto ancora niente, non siamo ancora salvi, dunque cerchiamo punti anche qua e speriamo di trovarli questa sera, però sappiamo che sarà una partita molto difficile. Il di Vaio di oggi, che cosa avrebbe fatto nella Juventus che avevi conosciuto tu qualche anno fa? Ma non lo so, ormai sono passati tanti anni, dunque sono situazioni, la squadra Juventus è diversa, io sono diverso, dunque sono situazioni difficili da paragonare, però sicuramente in questo momento io sto bene dove sto, sto bene a Bologna e sono felice di quello che sto facendo e come dicevo prima speriamo di arrivare a questa salvezza e per noi sarebbe un risultato eccezionale. E vuoi finire la carriera a Bologna come del Piero del Juventus? Magari, mi piacerebbe molto, sì è il mio sogno.